Posso chiedere in questi dieci mesi di pandemia qual è stato il momento più difficile per lei? Beh, l'ho dichiarato anche, quando all'inizio abbiamo visto tutti quei morti che crescevano, perché si hanno resi conto veramente che questa pandemia sarebbe stato uno tsunami nella nostra vita sociale e economica, nella vita di tutti i giorni. Vedere quei morti, quella fila, quelle bale... Quelle hanno tremato le gambe? Mi ha procurato molto dolore. Grazie.